Eccolo là. E' bellissima. E vedi che sei fortissima. Eccolo là. Eccolo. Ecco fatto. Questo mi fa molto piacere. Sì, mi sento tipo... Unlock your full potential at Crack Addicts. Oggi abbiamo con noi Federica che è una vecchia giocatrice di kickbox. Una lottatrice più che giocatrice. E quindi viene da noi per un po' di contratture in generale. Non sta male, però giustamente dobbiamo fare un controllo in modo tale da evitare anche nel tempo l'insorgere di fastidi più importanti. Ti posso chiedere di venire un attimo qua. Testiamo soltanto intanto la mobilità. E poi ti ricostruirò letteralmente tutto il tuo corpo con l'intelligenza artificiale. Con un programma che si chiama Motifisio. E che ci permetterà letteralmente di vedere tutta la tua struttura tridimensionalmente. Ok. Bene. Quindi non hai assolutamente alcun problema effettivo di mobilità. Ok. Perché altro se hai un po' di contratture. Stringi i denti di notte? Ma non mi sembra tanto. Hai qualche piccolo problema sul lato sinistro, ma molto inferiore rispetto al lato opposto. Però questo vuol dire probabilmente hai messo l'apparecchio. Ok. Vediamo se c'è ancora un po' di scoliosi. Perché un attimo qui. Arrivo subito che preparo il programma. Eseguiamo letteralmente uno scan tridimensionale intanto del pavimento. Ok. Esatto. Rivolta verso la scrivania. Verso di là. Allora rimani ferma, ferma e dritta. Non girare la testa e non muovere le braccia. Ferma così. Ok. Adesso ti devo chiedere per favore di mettere le mani sulle bosce davanti. Abbassare la testa. Ok. E andare leggermente in giù come per toccarti i piedi. Piano piano. Stop. Vedete che in pochissimi secondi questo programma ci permette di fare qualcosa di rivoluzionario. Ok. Perché ricostruiamo come dicevo prima tutto il tuo corpo in 3D. E lo possiamo vedere però anche a livello muscolare. Quindi possiamo notare le tue debolezze o le tue ipertoni muscolari su tutto il tuo corpo. Tu avrai un mese di esercizi precisi per te. Come puoi ben vedere. Ok. Questo è proprio tutto il tuo corpo ricostruito. Hai... Non l'abbia sorta. Il bacino è un pochino da sistemare. Guarda vedi dovresti essere un pochino più drittina. Come puoi vedere il bacino. Ok. Dovrebbe essere in questo modo. Invece vedi che cadi. Ok. Un pochino sul lato destro. Ho notato una cosa interessante che è l'arto sinistro che sicuramente è il ginocchio sinistro. Hai mai avuto qualche fastidio, qualche problema? Sì. Più che altro durante la notte. Ecco. Perfetto. Dove ti fa male questo ginocchio? Mi fa male qui. Proprio nella parte muscolare. Sì. In alto forte forte spingi resisti verso l'alto. Ok. Ok vedi che sei fortissima. Ok. Ti posso chiedere di rimanere sull'arto sinistro? Sull'arto sinistro. Sinistro grazie. Quindi ok. Quindi quello là. Spingi in alto. In alto le braccia vedi che neanche riesci a stare in equilibrio. Ok. Rimani sul destro. Spingi in alto. Qua sei fortissimo. Vedi che già il programma ci ha dato queste risposte. Ok. Hai una veramente importante estensione vedi del ginocchio. Ok. Hai la tibia molto ruotata e molto posteriorizzata. Questo sicuramente per te è l'origine di molti fastidi anche posturali. E anche poi legati al bacino. Ok. Sì perché io non riesco proprio a stare dritta con la schiena. E' tutto sempre il peso. Esatto. Esatto. Non puoi. Paradossalmente non puoi. Adesso noi facciamo degli esami. Questi esami devono essere importanti anche dal punto di vista proprio delle catene muscolari. Ti faccio mettere a pancia in su. Innanzitutto voglio vedere questo ginocchio sinistro singolarmente testando tutti i muscoletti che ne fanno parte. Ok. Innanzitutto hai dolore se faccio così? No. Quasi niente. Ok. Mi mantieni guarda. La gamba qui. Spingi forte in alto. Ok. E già il retto femorale non lavora per nulla. Vediamo un po'. Mantieni qua. Spingi in alto. Ok. Spingi verso di qua. Resisti. Ok. Qua va bene. Mantieni guarda. Scusa scusa. La gamba così. Spingi in questa direzione. Ok. Va bene. Spingi in questa direzione. Sempre in alto. In alto. E qua sei super debole. Quindi è una debolezza particolare. Solitamente è quasi quasi anche più facile che possa esserci una debolezza nel muscolo interno. Sai che il quadricipito è formato da quattro capi. Che poi diventano un unico tendine. Ok. E' più facile semplicemente perché è più comune che possa essere debole il muscolo vasto mediale. Invece tu sei il debole quello laterale che è più raro sinceramente. E' anche interessante da trovare. Ora lo trattiamo subito però. Tieni così. Spingi poco in questa direzione. Lascia. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Mi rimantieni così. Spingi in alto. Ok. E' già subito. E' fortissimo. Mantieni il piede così. Striscia verso di te. Forte. Ok. Mantieni così. Striscia verso di te. Ancora. Ottimo. Solo il piede. Spingi in alto. No. Solo il piede. Così. Verso di là la punta del piede. Così. Verso l'alto. Ok. Spingi all'interno. Qui. All'esterno. Mantieni così. Così. Spingi in basso tutto. Ok. Tranquilla. E' in equilibrio. Marbida. Buono. Lo vediamo subito. Prima di fare altro. Ti posso chiedere di rimetterti in piedi? Certo. Spingi in alto. Buona essere sempre forti. Rimani sulla gamba. Eh scusa sinistra. Sulla gamba sinistra. L'altra. Spingi in alto. E già non c'eri più. Questo è importantissimo per noi. Ok. Ho cambiato tutto. Ho cambiato subito tutto. Ti metti la pancia in giù? Sì. Trega. Non ti trovo che passa qui. Qui. Le braccia con le sulle le puoi mettere qui. Bene. Sei comoda? Sì sì. Ok. Andrea. Destra. Mantieni questo qui. Mettiamo quest'altro funeo qua. Ok. Ok. Prima tutta regolare. Fai un respiro. Butta l'aria. Sentirei un click. Ecco fatto. È bellissimo. Rilassa. Rilassa. Eccola là. Rilassati. Eccola là. Tutto fatto. Rilassati. Eccola. Qui pure. Tanto. Ti posso chiedere di darmi le braccia? Me le mantieni dritte dritte? Sì. Spingi verso il tetto. Vedi che non ce la puoi fare mai. Poi mai. Perché? Perché vedo subito che questo dipende dai piedi. Ok. Te lo dimostro. Morbida. Morbida. Eccola là. Visto come si libera subito. Morbida. Eccola là. E ti faccio subito vedere un miracolo. Guarda. Mi dai le braccia. Spingi verso il tetto. Eh. Sei fortissima. Va bene? Sì. Mi dai. Guarda. Le braccia le teniamo qua. Ok. Morbida. Morbida. Ecco fatto. Hai visto? Ti metti dall'altro lato per favore. Adesso di me. Tanto sinistra. Questo. Posso avere la mano qua? Uno. Due. Tieniti bene qua. Morbida. Ecco fatto. Hai visto? Pancenzo per favore. Bellissimo. Ma leggero. Ma proprio leggerissimo blocco. Morbida. Eccolo là. Non c'è niente di particolare. Semplicemente lavoriamo qui poco poco. Ok? Perché c'è proprio una tensione leggermente maggiore sul lato sinistra. Ma niente di più. Ok? A volte mi fa male tipo questo lato. Ti fa male, vero? Sì. Beh, allora è più importante di quanto immaginavo. Lo lavoriamo ancora più profondamente. Quanto è importante parlare con i propri pazienti. Ma perché? Perché guardando soltanto i documenti e le carte non hai un'effettiva idea della problematica del dolore della persona. Ok? Per questo a me piace. Sì, va bene. Guardiamo sempre le carte, gli esami, sia medici che non medicali, eccetera eccetera. Però la diagnostica personale è legata a come il paziente vive anche il suo dolore. Ok? Le risposte stanno là. Ti farà benissimo, alza la testa, non ti preoccupare che non ti impicca, morbida, rilassati bene. Le braccia guardano, la tieni così, le gambe giù per favore. Ok. Sentire leggermente che tirerò così. Aspetta questo non deve stare lì. Sì, grazie. Ok, fai il respirone, butta l'aria, rilassa, 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 rilassa. Ecco fatto. Sei il mio preferito. Eccoci. Siediti verso di qua, per favore. Molto bene. E già subito vediamo che le tensioni sono praticamente assenti, sono passenti. E questo mi fa molto piacere. Sì, mi sento tipo molto più libera. Ti dovresti sentire estremamente libera. Va bene, per me Federica il nostro trattamento è finito. Ti ringrazio per aver scelto il mio studio. Grazie a te. Grazie infinite. Sei stato veramente numero uno. Allora, oggi abbiamo con noi Giada che viene in questo studio per un full body adjustment, un controllo generale e sblocchi vari per questa povera schiena. Tu che lavoro fai Giada? Io sono allenatrice di palla a volo. Allora, insomma, fantastico. Sto tutto il tempo in piedi. Tutto il tempo in piedi, guarda qua che c'è. C'è un po' di dolorini. Vediamo, gira la testa. Questo è molto interessante. Vedi che giri la testa praticamente a metà di quanto si dovrebbe. Il naso dovrebbe arrivare. Gira di verso la scrivania di spiaggia. Grazie mille. Allora, va come per toccarti i piedi. Giù piano piano, piano piano. Ok, l'elasticità è ottima. Assolutamente ottima. Vieni pure in piedi. Ti faccio sedere, guarda la davanti. O comunque ti fa male? O la zona lombare? Sì. Un po' fa male, sì. Comunque un po' fa male. È un po' la sorellina della cervicale. Allora, ti chiedo ora un attimo le mani. Sì. Tieni, guarda, le dita aperte. Forti, forti, non mi farei vincere. Chiudi le dita. Ottimo. Rimani così. Spingi in basso. In alto. Mantieni le braccia così. Spingi in alto. Ottimo. Lascia. Spingi di lato. Ok. Niente di particolare. Giù la testa. Spingi in basso. Anche qui si è fortissima. Quindi di base sono delle problematiche proprio articolari, muscolari che non sono, diciamo, così importanti, così gravi. Ecco. Le possiamo sbloccare subito. Gira i piccoli clic, non ti preoccupare. Ecco, ho fatto. Morbida. Già la cervicale gira perfettamente. Ok. Ti chiedo di venire a pancia in giù. Ok. E anche qui, più o meno. Soprattutto però, questi punti qua. Niente di particolare qui. Soprattutto però, questi punti qua. It's a me. Ok. Grazie. 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 Un bel respiro, butta l'aria. Un arpito. Sul fianco verso lì può piacere. Bravissimo. Grazie. 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 Un bel respiro. Butta l'aria. Ancora. Una volta. Respira. Butta l'aria. Rilassa tutto. Ok. Ottimo. Un bel respiro. Butta. Ancora. Butta. Brava. Ora sei molto libera. Sì, mi sento molto meglio già. Sì. Guarda, dobbiamo fare un'altra cosa molto bella. Ti metti a pancia in su, per piacere. Mi chiedo se ti danno fastidio gli orecchini. Sulla con la testa. Iniziona. Giù. Perfetto. Ok. Ci siamo. Perfetto. Tira e rollo leggermente più forte. Ecco fatta. Questo è stato bello. Sì. Bellissimo, vero? Sei dotato a piacere. Grazie. La trazione si chiama il lift. Ok. Il lift vuol dire ascensore in realtà. Però di base è proprio una trazione in apertura. Soprattutto dei dischi cervicali. Quindi hai proprio letteralmente proprio un sollievo. Ok. Immediato. Poi effettivamente. Con anche una mobilità eccezionale. Guarda. Ok. Sì. Ti ricordi che è proprio molto molto limitata. Non vedo altre cose importanti sinceramente su di te. Sei una ragazza in salute sportiva. Avevi però effettivamente qualche piccolo blocco. Che è andato già subito via. Proprio subito subito. Va bene? Sì. Ti chiedo anzi di venire in piedi. Un attimo. Sì. Vieni pure. Esatto. Ritocca i piedi anche se è riperfetta dal punto di vista dell'elasticità. Adesso lo sei ancora di più. Vieni pure in piedi. Le mobilità sono eccellenti. Ma d'altro...